vabbè tenterò di passarlo subito soft media media soft per te paolo parti con la media madonna toccati toccati che è successo eh mi hai già capito long vabbè ok alagia rossa bella Dio porco e perché soft media virtual la notte per terminare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti